no quando ci sono andata ha detto di passare a casa sua se vogliamo andare al cinema no, allora quanti anni compi max eeeh aspetta c'è qualcuno letto c'è qualcuno letto allora possiamo parlare no 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 max max fallo stappare oh dai dai discorso discorso oh oh vai 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 molla molla ho un verso di noi oleee non vogliarmi si vede siiii grande max il goccino alla fine non glielo lascio un bicchiere a lui dove tu bicchiere? 30 bicchiere cos'era andata perchè a lui è più pieno? uai anche io grazie grazie è quello di te il cicchetto no no si brinda ooooh cicchetto max è sbordacciato come mai abituato allora a max a max a max ahhh guarda qua le di max guarda cazzo pieno ma che sta mozza 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 ti sei mozza ti sei mozza ti sei mozza